Ueeh, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi, terzo giorno delle sfide della 14 giorni d'estate di Fortnite, una sfida veramente semplicissima. Ci chiede di fare eliminazioni con la Thompson oppure con l'arma che verrà rimossa il giorno in cui la state facendo dal magazzino. Io vi do solamente due consigli ragazzi, innanzitutto fatela in rissa a squadre, c'è molta più probabilità di trovare le armi innanzitutto e soprattutto di chillare la gente e sbrigarsela velocemente. Vi consiglio, come sempre, di andare nei punti caldi, quindi per il vostro atterraggio scegliete i punti della mappa più caldi e poi una volta che avrete ottenuto, come vedete, le armi, basta anche la drumgown senza nessun problema, vi buttate ragazzi nella mischia. Vediamo se ci va bene o se non ci va bene, vi buttate nella mischia e molto tranquilla... Guarda che ce n'è uno, guarda che ce n'è uno. E molto tranquillamente... Ce lo facciamo, ce lo facciamo. Non ce lo facciamo. Dov'è? Dove sei? E molto quasi... Vieni qua. No, no, devi venire qua, vieni qua, vieni qua, qua, qua. Qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. La edizione che mi sta scappando di proprio... Ehi tu, devo ucciderti, devo ucciderti! No! Non ci credo. Comunque facendo così ragazzi, completerete tranquillamente la sfida ed otterrete come ricompensa il palloncino ragazzi. Tanta tanta roba, nuovo giocattolo. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao! 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 Grazie a tutti.